Allora ragazzi riprendiamo molto volentieri Eravamo arrivati Al punto in cui Abbiamo affrontato i banditi Ah bene, ancora questo pezzo Dunque va un certo quest Devo trovare i punti giusti Però perché altrimenti Lo usiamo da promemoria C'è un problema C'è un progetto C'è un progetto C'è un progetto Ben C'è un progetto Tutt'a questa gentilezza Comunque è un po' Sicuramente sospetta Allora Andiamo a vedere quei banditi Andiamo subito a vedere i banditi Andiamo subito a vedere i banditi Andiamo subito a vedere i banditi C'è un progetto 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 Eccola C'è un progetto C'è uno bravo ora c'è chi? guarda 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 lì guarda guarda Questa è vera. andiamo a guardare un pochettino probabilmente c'è un pochettino che hanno scoperto da noi solo l'acqua la persona pato che sarebbe un entro Nessunque Tent sembra molto newi Anybody inside? Two sleeping bags One of them's kid sized Looks like they expected to be here a while Hmm, looks like they were moving a lot of stuff What's in the boxes? They're all from save lots The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate Anything worth taking? Not unless you need a bunch of empty cans Eh, I'll pass Boxes from the dairy here Probably the food we've been giving them Fuckers cross the line What do you find? A video camera Let me see that Battery's dead though Oh, good What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on I see you handle that gun I lent you pretty well You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule Lily, right You did say she was running things for you Sounds like you picked a good leader Hello, let me see ya Empty but it looks like someone's been eating out of these recently Yuck, I don't need that No Nothin' but fumes shit Ah, man What the hell are they playing with? Why are you alone up here? What happened to you? Well, that's a hell of a question, mister They told me I'd be safe with them Men who lived here, but it weren't safe Not for me, not for my girls They didn't treat her nice, not at all They took her away, into the woods Wouldn't tell me where And I faked them every way I could think They just laughed So I killed them And I'm staying here till she comes back to me One way or another She'll come back Now maybe you didn't hear me last time When I asked you, sweet Put your damn guns down You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow And put a nice sharp arrow right through your eyeball And into your goddamn brain You're not men, you're monsters All men are monsters Take what they want and then destroy it all Take a can of beans Take a little girl It's all the fucking same to you Where did you get this hat? The little girl You stole it from her So what if I did? You stole her from me What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind I'm putting this arrow right through your balls Yeah, right through String them up on that tree Then I'm gonna head down to that farm And shoot every goddamn person I see Put down the crossbow No sir, I need it I need it to kill you fuckers Go on, tell him boy Tell him what you got in mind God damn it non diciamo niente devo stare attento a questa festa di cazzo a questo punto fagli saltare la balestra brutta storia brutta storia man that was a hell of a ride huh Jesus Danny What You ain't getting soft on him, are you? Not after what they did to your friend You're back what happened Handled it mama This isn't what Terry would have wanted Ehm... o come dovremmo fare cose beh, probabilmente è solo la parola e Lee? non ti preoccupi di cuore sui bandanti scusatevi che hai visto più violenza che ho pensato in qualche tempo ma tutti sono sicuri qui non ti preoccupi credo che andrò andrò non ti preoccupi di più la cena sarà pronta prima che lo sai e grazie a te amici lei e i bambini sono in casa con l'occhio l'uomo è una vita lamentando abbiamo riportato il cappello come cazzo ha fatto quella tipo da prendere il cappello? non l'ho capito bene però per essere spinta fino al motel per lamentare anche poi perchè ha detto che li abbia rubati che vuoi non ti preoccupi anche chi non ti preoccupi non ti preoccupi E' ok, go ahead. What's this thing? I don't know Ehhh Allora, parliamo con Andy Contatto con Andy We met this woman up in the woods She seemed to know your brother Uh, yeah, he uh He probably talks a little more than he ought to How's the cow? Well, better now we got Doc on the case Um, when do you think, uh We might eat? Hungry, huh? Don't worry Mama's cooking up some good grub Thanks Yep Um You found it too, huh? Locked Lee, they're hiding something Behind this door I got a quick look They got boxes of stuff Something metal and sharp Don't get paranoid But it's my job to be paranoid Okay I got my whole family on this farm right now How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what I know you will Look, that guy with Katya What's his name? He locked it up real tight the second we came in I definitely heard a noise back there Lee What? My point is we gotta know for sure So go find a hammer or something And I'll have this thing off in a second You back me up in case them farmers come running Curious You smash the lock Then what if it turns out you're raw? You just fucked your chance to get a good meal to those kids you try to protect Who was your head, Kenny? All right, Professor What do you have in mind? Let me look at what we're dealing with first Hey, Lee You know how to pick a lock, right? No Why would you say that? Well, you're... You know... Urban? Oh, you are not saying what I think you're saying Jesus, man, I'm from Florida Crazy shit just comes out of my mouth sometimes Sorry Hmm What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly Have a peek inside and then replace it all again like nothing ever happened All right Sounds like you're gonna play I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow Andy Shit, I thought that was Danny Whatever Can I help you boys find something? Hmm They're starting to call Just checking out the barn here Never been to a dairy farm before Just don't roam around without me or Danny The farm can be a dangerous place You know, the bandits and all Sorry about your friend Hey, uh, do me a favor Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, mama gets nervous Andrew, I need your help again No problem Right away, doc Ehm, I suspecti di Kenny forse sono... I suspecti di Kenny forse sono... The shole� of Kenny forse su would be valid, yeah I haven't had an evidence of Johnny... But when we are frozen on the running for the viele far impastare il generatore cerchiamo di mandare fuori uso il generatore è un po' di farlo non si può fare un po' di farlo Sì e quindi sto discorso funziona però però dice che mi serve un cacciavite per poi gli americani sono un po' ma infatti spiegami un po' perché qui non mi convince neanche un po' ho fatto un cambiamento proviamo a farlo scattare di nuovo vediamo se ne provo vediamo qua non riusciamo perfetto e niente o niente quello è un modo però mi sa che devo mandare proprio fuori uso generatore per tenerlo lì più tempo ah forse l'altro nel banchetto c'è lo vero ha riscatto degli attrezzi esatto perché se gli mando fuori uso generatore sta lì un po' e allora posso aprire la ah ok ok va a saltare la cinghia adesso però mi incula c'è chi è che ha fatto la cinghia? ah ok è da chi? un po' improbabile come situazione però vabbè aprivo la cazzina peccarano di sicuro eh per proprio cani cani c'è un po' c'è un po' ok honey let's get that dad dad come on let's eat cani come along honey cani come on andando andara su ok vedi arrivare qui dai su veloce questo good vedi 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 no se posso riuscirlo non ho bisogno di riuscire con la macchina macello delle vacche la porta è ferma beh siccome il macello risulta credibile cioè quindi e Oh, 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 Biscuit? Wow! Oh, oh! Oh, boy! Scusate, dove eravamo bloccare la porta dopo che il walker si è arrivato. Non rispettate, era un giorno fa e non è stato tornato in dentro. Tutto sentite, ora andiamo a prendere la pasta! Oh! Questo è un ilotto! Potrei uscire un poteco! D'ora Mark? No, non preoccuparti di lui. Ho già portato la comida, lo lasciasciare. rest I mind if I wash my hands first bathrooms right outside in the hall and be sure to get under your nails you've been mucking around and dirt this must be Terry io lo so lavermi le mani posso me lascio di entrar ci sarà qualche qualche casino poi cos'è sto cavo qua e belli non è che per tanto già passata mezz'ora da quando venire a creare mani che c'è quello che c'è che c'è c'è già la luce in altra stanza, morfina... c'è molta morfina...candles...smart... ...musty as hell... I guess someone needed some first aid recently... Eugh...what is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here... Ivory, tube, saline... What would dairy farmers need with this kind of stuff? Ma... ...dalla luce... Non c'è cosa... Al di là... Per cazzo è un buon scato così... Cos'è? Beh, a parte che abbiamo fatto un casino ormai che... ...peranno che non siano ancora venuti su... Porca puttana... Mi hai tagliato le gambe, figa... Ah, minchia, la carne è... ...con le sue gambe... Porca puttana, andiamo giù, andiamo giù... Vabbè, ma non tanto prima che mangi, ma... Cioè, per avvertire che sono fuori di te... Cioè, cazzo me ne frega se la mangio o no... Cioè... Clementine, non! Uh-huh... Cioè... 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 Eh si vogliono farci fuori poco alla volta, bastardo. Non diciamo niente. Aiaiai si è trasformato. Si è trasformato. Ah no, non è morto. Bastardo, bastardo. Cazzo che storia c'è. Senti bloccati. E Carly e Ben sono una speranza di... ...l'ho fatto a posto. Ah, quindi ci hanno rinchiuso solo noi? Kenny e la tipa sono ancora di là. Sì, Kenny e la tipa non... ...e Katia non... Dove facciamo passare un po' tutto. Ma quei pannelli lì del controsoffitto mi sembrano... ...bancale. ...ebbene lì dovrebbe esserci il condotto. Ecco, bravo coglione. Bravo coglione, fatti venire un infarto qui. Eh sì, si trasforma. Ed è un bestione qui. Non so. Non so Io penso che aveva ragione Kenny No ma io sono con te Kenny No no io sono con Kenny No ma non possiamo rischiare Mi stava anche sulle palle questa stronza Eh mi dispiace Mi dispiace Io sarei incazzata come una vipera Non andava affatto Altrimenti c'è Averlo in mezzo alla stanza che gira Non potevamo rischiare Non potevamo prendere la chance Entendete perché abbiamo fatto questo Clementine Quindi non torneremo uno di questi monstri? Lo vero Sì 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 Magari ce l'aveva lui una, vediamo a Kenny Il condizionatore Il condizionatore behind the air conditioner is big enough, you might have found our way out of here Yeah? But I need something to loosen the screws I got nothing, shit Hang tight, maybe I can scrounge something Clementine non è niente, va che troviamo qualcosa Eh, l'alternativa I know it was necessary I just wish Clem didn't have to witness shit like this I worry what it's gonna do to her Devo chiedere ancora Libby Why can't you just leave me alone? I'm sorry, Lily But if we're gonna get out of here We need your help And Larry's I think I may have found a way out of here But I need something to remove the screws on the air conditioner If you had something I could use as a screwdriver or a coin or something No What about him? Look, I know this is a terrible time for him But back at the motor Larry, Larry mentioned something about keeping coins in his pocket It's not true In other words, one of the others is more useful to you dead than alive If he was alive and had the key to getting us out of here Do you think he'd keep it to himself? What do you want? My blessing to loot his corpse? I'm sorry No, I'm sorry Do what you have to do No, I'm sorry Why can't you just leave me alone? No, è una... Pardeggi, ti metti la mia vita. Sì, effettivamente è servito più da morto che da vivo, da vivo non faccio lì quel biondo. Sì, c'è il nostro canale, lei. Clementine. Clementine può entrare. Sì, sembra che si può entrare all'interno. Ecco qua. Hai, pensi che puoi fare questo? Mi preoccupa. Certo? È bene di essere assicurato. Abbiamo bisogno, Clementine. Ok. Forza, Claire. Sei bene. Ma cosa faccio quando fuori? Vedi se puoi arrivare all'altra parte della porta e aprirla. Piano piano, dai. Noi, ma c'è un uomo. Oh no Una mappa la O Che postaccio Non so quanta gente ha fatto fuori Quindi bisognerebbe capire anche poi i banditi Ci sono di preciso E' un po' elettrico A uno l'altro Falce Bella strisciata Sì dai la faccia mi sembra quella più Andiamo a fare Soprattutto la pioggia ci favorisce Ryan Soprattutto la pioggia Soprattutto la pioggia ci favorisce 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 J Non c'era niente da salvarli Adesso vorrebbe essere un punto di salvataggio Sto facendo dei video da un'ora Però chi se ne frega, tanto va Ai 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 Il recinto è ancora elettrificato Chi è quello? Ah, mitica Carly! Lee? Ouh! C'è chi? C'è chi? C'è chi? C'è chi? Beh, non è che sia tanto pericolo Cioè, sono solo quei due lì Eh, io ti ho salvato proprio perché hai sempre la pistola Allora ragazzi, io stoppo e riprendo subito Perché almeno... perché qui è un'ora di video Quindi... È proprio un... Un stop and go Alla prossima Alla prossima Alla prossima